come va? troppe cose da fare vi dovete calmare come vai? te l'ho detto io ci provo non c'è campo prendo tempo per cambiare canale spattimento che scoperta ho lo senso sai com'è è un messaggio da visualizzare l'acqua a chiave per ripartire ma come lo puoi comunicare se ogni cosa ha una forma digitale se ogni stato d'animo che viene condiviso ha la faccia gialla con un sorriso tra selfie, story e post la vita sembra un low cost tu alzi il livello mi dici cosa è bello vuoi che hanno stare a perdere tempo? alzati per sostenere c'è una notizia incredibile non si rivolge solamente a me che mi dà vertigine che si fa? troppe cose da dire mi dovete ascoltare cosa fai? te l'ho detto senza gli altri non c'è scampo prendo tempo parti tu fallimento è sempre un passo non ha senso sai com'è? vai a te la stella come fai a non sbagliare l'importante è di capire ma come lo puoi comunicare se su tutto vince l'apparire occhi quella cosa che sembra una sentenza anche se non sai puoi far la differenza tutti ripetono io e il mio ma se chiedo aiuto dai ci pensa addio io capisco se mi alzi il livello ma come dice un altro ehi fratello wake up tu stai a perdere tempo get up get up alzati per sostenere c'è una notizia incredibile non si rivolge solamente a me che mi dà vertigine salere c'è wake up non voglio più perdere tempo get up get up eccomi stella c'è c'è una notizia incredibile questa volta tocca proprio a me niente e più limite so wake up wake up get up get up let's go stand up wake up non starei a perdere tempo get up get up alzati let's go stand up c'è una notizia incredibile c'è non si rivolge solamente a me che mi dà vertigine so wake up non voglio più perdere tempo get up get up get up eccomi C'è una notizia incredibile Questa volta tocca proprio di me Niente più limite